La protezione civile della regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo valevole a partire dalla mezzanotte sull'intero territorio. Si prevedono infatti precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità. Inoltre il mare sarà particolarmente agitato. L'allerta avrà una durata di 24 ore. La protezione civile ha raccomandato massima attenzione in particolar modo in costiera amalfitana sui monti di Sarno e in Cilento dove il livello di criticità idrogeologica è arancione. Qui infatti si segnala anche il rischio di instabilità di versante, localmente anche profonda, con possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o fango. E a seguito del bollettino meteo emanato dalla protezione civile regionale, il sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli, dopo aver convocato il COC, ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani, martedì 9 febbraio. Ricordiamo che per tutta la durata dell'allerta meteo, a Cava dei Tirreni chiudono anche via 5, il cimitero e le ville comunali.